Abbiamo perso oltre 2 milioni di animali tra moche, maiali e pecore negli ultimi dieci anni. 130 razze sono a rischio di sconso. Allora dobbiamo difendere le stalle italiane perché quando chiude una stalla non chiude solo un'attività economica ma chiude un presidio fatto di animali, fatto di prati, di pascoli e di persone che ogni giorno contiene i nostri territori dal rischio di abbandono, di degrado e dal rischio di decenni. Allora difendiamo le stalle italiane, difendiamo i prodotti dell'allavimento anche col valore aggiunto della trasparenza a tavola. Il 2017 è un anno di svolta con l'origine obbligatoria dell'arte per tutti i formaggi, gli yogurt, i puri trasformati e dobbiamo portare in tutte le altre filiere il valore aggiunto della trasparenza. Oggi è diventato un mestiere particolarmente difficile perché è tanta burocrazia e poi è un lavoro che purtroppo è un po' più rinnovativo e quindi le difficoltà, i problemi che sono tutti i giorni è difficilissimo fare oggi la cattura, c'è tanta passione, tanto coraggio e tanta voglia di andare avanti. Grazie a tutti.